Senta, io penso, poi sento la sua opinione, io penso che sia particolarmente grave ed anche gravido di possibili conseguenze negative, molto negative, quello che ha detto l'imam all'Università di Torino, inneggiando praticamente alla Jihad. Ecco, non le faccio sentire neanche la clip perché tanto sa cosa ha detto e poi non occorre aggiungere altro, inneggiare alla Jihad da noi non è possibile perché la legge non lo consente alla fine, lei che ne pensa? Io sono d'accordo con lei, penso che sia il risultato di una cultura che ho combattuto e che combatto, per la quale la laicità dello Stato intanto si deve applicare solamente contro la religione cattolica, perché noi dobbiamo togliere i crocifissi dalle aule delle nostre scuole, ma sia chiaro che se arriva un imam e si mette a inneggiare la Jihad dentro un'università quello va bene. Non è e non sarà mai il mio modello e mi auguro ancora di avere uno Stato italiano che fa rispettare le regole, perché a casa nostra la propaganda jihadista non si può fare e quindi mi aspetto che ci sia qualche magistrato che si occupi di questa persona. Molto bene.